La biblioteca Satta conferma la sua vocazione di centro culturale d'eccellenza per Nuoro e per l'intera provincia, arricchendosi di una nuova sezione, siccome noi siamo molto curiosi, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Recentemente la biblioteca ha voluto puntare su questo genere che in realtà esiste da tanti anni, però in biblioteca non è molto rappresentato, che sono i manga, delle vere e proprie opere d'arte, delle illustrazioni con delle narrazioni molto interessanti, che sono figlie di una cultura giapponese, a cui la biblioteca sta dando molta più attenzione nell'ultimo periodo. Infatti, a partire dalle sollecitazioni degli utenti, abbiamo scelto alcune opere che sono particolarmente interessanti. Il vostro obiettivo qual è? L'obiettivo è di verificare se queste opere, questi manga, siano di interesse degli adolescenti, ma non solo perché queste sono vere opere d'arte, quindi possono essere anche interessanti per gli adulti, e poi di ampliare le collezioni sulla base dei suggerimenti di acquisto, cosa che già normalmente facciamo di questi ragazzi, ma anche appunto degli adulti.